Una rosa bianca per simboleggiare la purezza di un momento così importante nella vita di questi ragazzi, il diploma di maturità. È stata la sede storica di piazza della Badia dell'Isis Buonarroti Fossombroni di Arezzo ad ospitare la cerimonia per i neodiplomati e le loro famiglie e la consegna delle attestazioni finali. 130 ragazzi che hanno conseguito il diploma in un anno particolare, questo per l'Istituto salito alla ribarta delle cronache nazionali per l'iniziativa delle borse di studio agli studenti più meritori. Un assegno di alcune centinaia di euro a chi aveva la media del 7,5 nel primo quadrimestre. Ma per la cerimonia dei diplomi l'Istituto ci tiene a sottolineare l'importanza di questo traguardo per tutti gli studenti al di là del voto conseguito. A consegnare i diplomi oltre al dirigente scolastico del suo vice anche il provveditore agli studi di Arezzo Roberto Curtolo. In rappresentanza invece dell'ordine dei commercialisti la Vorca del collegio dei geometri Marco Ciardi e Ramalli per Etruria Volo. Realtà che da sempre collaborano con l'Istituto per i progetti di scuola lavoro.